indottrinava i bambini al martirio arrestato per terrorismo internazionale un 58enne cittadino italiano di origine egiziana e ritenuto affiliato all'isis tari la stangata c'è ma non si vede opposizione all'attacco anche se la tariffa resta invariata i fondi utilizzati per coprire l'aumento dei costi della raccolta vengono sottratti ad altri servizi misteri l'anno della ballisa sarà la confraternita che uscirà in processione venerdì nel nostro live le prove generali bari piace agli stranieri tra le mete più cliccate per le vacanze pasquali secondo il motore di ricerca trivago ne parliamo nel nostro focus con gli albergatori buonasera in diretta dalla redazione di itelebari come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è avuto oggi nella nostra città e commentarlo con i nostri ostiti la cronaca in primo piano un egiziano di 58 anni è stato arrestato a foggia perché ritenuto affiliato all'isis indottrinava i bambini a combattere i miscredenti l'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di bari sentiamo vi invito al jihad a combattere i miscredenti i crociati gli ebrei gli atei i tiranni arabi e i loro eserciti con le vostre spade tagliate le loro teste oppure sparate con i vostri proiettili con le vostre cinture esplosive fate saltare in aria i loro corpi e non dimenticate le bombe esplosive che provocano maggiori disastri e atrocità la miglior maniera per ricevere la benevolenza divina e sappiate che dio vi rende vittoriosi ogni qual volta si faccia trionfare la sua religione e il capestato onore dei deboli inneggiava alla violenza esaltando il concetto di guerra santa fino al convincimento di ottenere la purificazione dei peccati e il paradiso questa è la matrice dei messaggi che moy abdel rahman il 58enne egiziano arrestato a foggia nell'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di bari diffondeva attraverso l'uso di mezzi informatici l'uomo che da tempo aveva ottenuto la cittadinanza italiana dava anche lezioni di religione ai bambini dai 4 ai 10 anni nel centro culturale islamico del capoluogo dauno utilizzandolo come base per la propaganda jihadista ad incastrare l'egiziano alcune pubblicazioni su internet di chiaro stampo terroristico video di appelli di al bagdadi e filmati di bambini arruolati nell'isis partecipazione all'isis apologia del terrorismo le accuse a carico di moy abdel rahman al quale la guardia di finanza ha sequestrato numerosi conti correnti e beni finanziari per un valore di 370 mila euro sigilli anche al centro culturale islamico di foggia che in passato aveva dato ospitalità al foreign fighter ceceno Elibon Bataliev arrestato da Radigos il 5 luglio scorso nell'ambito dell'operazione Caucaso Connection Camero argomento avrebbe voluto procedere al riconteggio delle schede Filippo Melchiorre candidato per Fratelli d'Italia al Senato nelle scorse politiche ma l'incendio nella sede degli archivi giudiziari di Bari in cui sono andate distrutte le schede elettorali pone un problema serio sentiamo l'incendio delle schede elettorali nell'archivio dello stabile del giudice di pace a Bari meriterebbe l'attenzione nazionale a sottolinearlo è Filippo Melchiorre consigliere comunale di Fratelli d'Italia in corsa per il Senato alle ultime politiche l'avvocato barese che il 4 marzo scorso non ce l'ha fatta avrebbe voluto presentare ricorso attraverso i suoi legali per un eventuale ulteriore conteggio delle schede le stesse schede che sono andate bruciate nella notte tra il 23 e il 24 marzo e il consigliere Melchiorre non ci sta e lancia un appello io avrei voluto insieme ai miei avvocati presentare un ricorso che come tutti sanno si può presentare entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti l'incendio delle schede ovviamente pone un problema serissimo che meriterebbe l'attenzione io dico anche nazionale da parte degli organi massimi del Ministero degli Interni e del Ministero della Giustizia perché un incendio delle schede quindi una non tutela quindi di un diritto di un candidato, dei candidati di poter presentare ricorso vendo meno la prova principale che sono le schede elettorali io dico che pone un po' la cifra di come questa città sia lo sbando totale e chiede chiarezza immediata sugli eventi e l'intensificazione del servizio di sorveglianza pubblica all'onorevole Marcello Gemmato, fratelli d'Italia, che aggiunge mi auguro una rapida svolta nelle indagini e l'individuazione dei responsabili e del movente di questo gravissimo atto Pinuccio, l'inviato di Striscia alla Notizia non è stato ammesso come spettatore ai lavori del Consiglio regionale pugliese si entra solo su invito, si è sentito dire all'ingresso dalle guardie del nucleo di vigilanza della Regione Puglia dopo aver chiesto di assistere alla seduta dallo spazio riservato al pubblico Striscia è tornata oggi a cercare Michele Mazzarano, l'assessore dello sviluppo economico della Regione Puglia ha dimessosi il 22 marzo scorso in seguito al servizio del Tg Satirico in cui un testimone ha accusato il politico del PD di avergli promesso di assumere i suoi due figli in cambio della concessione gratuita di un locale per la campagna elettorale dei regionali del 2015 Mazzarano, che conserva la carica di consigliere regionale, si è dichiarato vittima di un'estorsione ed ha presentato e esposto querela alla procura di Taranto nei confronti del suo accusatore spiegando di essere perseguitato da tre anni Siamo alla politica cittadina, la Tari in realtà è aumentata Parola delle opposizioni a Palazzo di Città che questa mattina hanno parlato in conferenza stampa Sentiamo La Tari in realtà è aumentata Che l'incremento non ricada direttamente sulle tasche dei cittadini non vuol dire che non saranno comunque loro a pagarne le conseguenze visto che l'aumento del servizio pari a 4 milioni di euro dal 2016 ad oggi sarà coperto con fondi che potevano essere utilizzati per ulteriori servizi a loro dedicati Parola di Michele Piccaro che con altri componenti delle opposizioni Giuseppe Carrieri, Filippo Melchiorre, Fabio Romito e Michele Caradonna ha illustrato questa mattina l'artificio contabile votato ieri in aula d'Alfino Un artificio che adopera come facciata per lenire le tensioni dei cittadini il mancato incremento delle tariffe sulla tassa dei rifiuti che per vie traverse rappresenta comunque una stangata per i baresi L'incremento, così come documentato dal piano economico e finanziario sarebbe adebitabile all'estensione del servizio di raccolta porta a porta nei vari quartieri della città Un servizio che invece di far diminuire i costi li sta al contrario facendogli evitare Ed è questa la ragione per cui il capogruppo di impegno civile Giuseppe Carrieri ha illustrato ancora una volta gli emendamenti presentati in aula bocciati ma con l'obiettivo, ha precisato, di rendere la manovra fiscale più equilibrata L'amministrazione si è arroccata né non voler ascoltare le istanze che provengono dal territorio continua Filippo Melchiorre, fratelli d'Italia che annuncia nei prossimi giorni un nuovo sopralluogo Torna sui 7 milioni di tributi non riscossi invece Michele Caradonna che si dichiara deluso Da questa amministrazione mi sarei aspettato una vera e propria rivoluzione sui temi ambientali, conclude, visto che ne hanno fatto, il vessillo della campagna elettorale Consigliera, qual era la sua proposta ieri in Consiglio Comunale? La mia proposta è un sistema di raccolta che permette ai baresi di conferire H24 il rifiuto differenziato quindi di non avere i cassonetti per strada, di non gravare, si chiama trasporto pneumatico esiste in tantissime parti del mondo, non solo di Europa ed esiste anche, esisterà Taranto e Polignano grazie a una delibera di giunta Emiliano peraltro che per 20 milioni di euro finanzia in via sperimentale questa nuova tecnologia che poi è una nuova vecchia tecnologia Adesso parliamo della nuova sede della Regione Puglia di Via Gentile raggiungere in auto gli uffici della struttura ancora in fase di completamento è una vera impresa, scopriamo perché Le auto posizionate alla bene e meglio all'esterno sull'erba dentro un avviso attaccato con lo scotch che informa che l'accesso al parcheggio è consentito solo a personale di servizio auto istituzionali e denti pubblici Per tutti gli altri comuni mortali non resta che cercare fortuna su sterrati o marciapiedi se non si vuole finire in uno dei vicini campi coltivati Nuova sede della Regione Puglia di Via Gentile Non bastano le polemiche per i ritardi e l'evitare dei costi di realizzazione della struttura Ad oggi si parla di oltre 60 milioni di euro a fronte dei 40 inizialmente previsti Si aggiunge ora quella dell'accessibilità della stessa Sì perché quella che dovrebbe essere la casa istituzionale di oltre 4 milioni di pugliesi risulta difficilmente raggiungibile proprio dai fruitori finali nonché principali finanziatori, i cittadini Salvo come detto ricorrere a espedienti fantasiosi sicuramente contrarie a ogni norma per la sosta Il problema è divenuto ancora più pressante negli ultimi giorni da quando proprio per l'ampliamento del parcheggio interno si è chiusa un'area precedentemente adibita a tale scopo Risultato la saturazione completa dei posti disponibili Certo c'è da chiedersi come una struttura così grande e così importante sia già da tempo entrata in funzione per una buona porzione senza che ne fossero completati prima i necessari servizi per raggiungerla Nel frattempo al comune cittadino non resta che lasciare l'auto ai piedi della vecchia sede di via Capruzzi perché il posto in regione si sa non è cosa per tutti E parliamo di turismo Le prime anticipazioni sull'andamento di Pasqua in Puglia arrivano da motore di ricerca di viaggi Trivago che individua in Bari, Lecce e Alberobello le destinazioni più cliccate dai turisti nazionali e internazionali per il ponte di Pasqua seguono Fasano, Polignano a Mare, Gallipoli, San Giovanni Rotondo o Trantostuni e Monopoli oltre ai comuni costieri tra le località turistiche dell'entroterra le più ricercate ci sono anche Castellana Grotte e Martina Franca Siamo allo sport, vigilia di campionato per il Bari impegnato domani in trasferta contro Lascoli in conferenza stampa le parole di Fabio Grosso l'obiettivo è quello di allungare la striscia positiva Lascoli giocherà in casa, avrà bisogno di punti ma noi non ci vogliamo fermare voglio vedere in campo una squadra ambiziosa con la voglia di provare a fare la partita senza ovviamente scadere nella presunzione dobbiamo pretendere tanto da noi stessi crediamo nel lavoro e siamo consapevoli della nostra forza e delle nostre qualità purtroppo, conclude Grosso Bascia non ha recuperato si aggiunge alla lunga lista di indisponibili Bene, ci fermiamo Breve pausa pubblicitaria restate con noi tra poco commetteremo i principali fatti di questa giornata con l'amico e collega di Repubblica Giuliano Foschini a tra poco Eccoci ancora qui in diretta pronti per commentare i principali fatti di questa giornata oggi in compagnia dell'amico e collega di Repubblica Giuliano Foschini Ciao Giuliano, benvenuto Buonasera a tutti Come sempre in apertura l'apertura la dedichiamo al nostro live oggi siamo in diretta dalla chiesa di San Gaetano a Barivecchia sede della confraternita della Vallisa quest'anno sarà la Vallisa ad uscire in processione come per la processione dei misteri di venerdì l'inviata di questa sera per noi è Barbara Civillo Barbara, buonasera Sì, buonasera Alessandra buonasera a tutti i nostri telespettatori ci troviamo nella chiesa di San Gaetano nel cuore di Barivecchia dove ci si sta preparando per la processione di venerdì io sono in compagnia di Michele Marmoreo che è il segretario della Pia Associazione dei Misteri della Vallisa grazie per avermi aiutato buonasera buonasera Allora, le nove statue sono tutte qui restaurate? Sì, quest'anno restaurate perché è stato fatto un lavoro di restauro e consolidamento dei misteri quindi diciamo è stata data una pulitura ma di quelle abbastanza profonde dove i misteri sono tornati un po' a risplendere come erano magari in passato no perché durante il restauro la restauratrice, dottoressa Alicia Laviora ha scoperto che in realtà ci sono tre edizioni di restauri quindi è arrivata proprio diciamo all'osso del lavoro e ci sarebbe una spesa enorme praticamente per poter arrivare e abbiamo fatto solo quello che riguarda il consolidamento Insomma, quello che vedete, la bellezza di queste statue che poi saranno portate per le strade della città proprio in occasione del venerdì santo quest'anno tocca alla Vallisa quelli che vedete qui intorno sono tutti portatori ma solo soltanto una piccola parte perché in realtà siete? Siamo più di 160 portatori perché ci sono alcuni misteri che hanno aumentato i portatori proprio per sopperire alle spese che tra la banda, gli ornamenti insomma ci sono Portatore è un messiere, una passione forse che si tramanda di generazione in generazione e poi mi spiegavate prima che i portatori ognuno ha la sua statua non si cambia di anno in anno Assolutamente no i portatori sono come diceva poc'anzi di generazione in generazione di padre in figlio già salendo all'Ottocento dove sono cominciate a Bari questa tradizione copiata dalla Spagna ovviamente Una delle tante tradizioni legate alla processione dei sacri misteri allora noi restituiamo per un attimo la linea ma ritorniamo tra pochissimo E allora tra poco con Barbara e questo appuntamento onale con la tradizione tra fede e tradizione come sempre accade per i riti, i riti che riguardano la nostra città Allora parliamo di cronache partiamo con l'operazione della DDA un'operazione che ha portato all'arresto di un cinquantotenne cittadino italiano di origini egiziane affiliato all'ISIS secondo la procura e tra l'altro in stradava i bambini al martirio queste operazioni non è la prima che si verifica a Bari ci danno quantomeno un po' di sicurezza su un'attenzione della procura che però ti chiedo ha tutti i sistemi per poter vigilare su fenomeni di questo tipo ormai la grande minaccia internazionale Una delle domande che ci viene fatta più spesso è perché non è ancora accaduto nulla in Italia la prima risposta la risposta più giusta è fortuna però esiste un altro pezzo della risposta che è importante altrettanto importante che è perché in Italia esiste una macchina della prevenzione e questo è vero l'operazione di oggi lo testimonia in maniera efficace ma ci sono decine di operazioni altrettanto importanti che lo dimostrano guarda c'è stato un episodio che in qualche maniera riguarda la Puglia che è emblematico l'anno scorso, l'estate scorsa fu arrestato un presunto gerista in Svezia e lo arrestarono con la collaborazione dei Carabinieri del Rosso io feci qualche domanda in più praticamente è venuto fuori che il Rosso subito dopo la strage di Parigi aveva allertato tutti i grandi distributori di concimi chimici perché voi sapete che le bombe fatte da lì si sono principalmente fatte con disturbanti chimici in tutta Italia dicendo se avete degli ordini particolari avvisateci un ordine particolare è arrivato a un distributore di concimi chimici di Monopoli che si era allertato aveva avvisato la compagnia dei Carabinieri di Monopoli che aveva chiamato i Carabinieri del Rosso questa ordine aveva fatto questo signore in Svezia avevano fatto visita a questo signore in Svezia e ai poliziotti svedesi e questo era uno che stava fabbricando una bomba ora questo è un esempio di come di che cosa significa la prevenzione sul territorio in Italia e su come si può prevenire quello che è prevenibile è evidente che il lupo solitario piuttosto che attacca quindi l'operazione come quella di oggi è un'operazione che conferma come la nostra intelligence le nostre forze di polizia le nostre forze del magistrato la nostra magistratura è in grado di assicurare una prevenzione che altrove in Europa non c'è c'è anche un grande controllo una grande attenzione sulle reti di internet molto spesso in queste operazioni abbiamo visto quanto fosse come dire importante e fondamentale all'interno delle inchieste recuperare anche documentazioni di questo tipo sì, internet e l'ip web in particolare anche questo signore arrestato oggi lavorava su l'ip web quindi su pagine sulle quali non possiamo accedere diventa un problema fondamentale anche perché le radicalizzazioni in questo momento arrivano tutte online prevenire quella roba lì è complicata è difficile è più facile perché noi abbiamo gli strumenti migliori riuscire a prevenire lavorando bene sul territorio terrorismo e anti-immigrazione spesso finiscono per incrociarsi in un momento anche come dire è molto difficile è molto caldo veniamo dalla campagna elettorale che ha puntato molto su questi temi ovviamente anche su questo serve anche una cultura per risultare il terrorismo e l'immigrazione non ha alcuna correlazione diretta alcuna se voi immaginate in questo momento in Francia piuttosto che in Germania tutti quelli che hanno colpito sono i cittadini europei a tutti gli effetti di seconda generazione nata in Francia nata in Belgio quindi l'immigrazione e il terrorismo sono due cose diverse non è vero che i terroristi arrivano con i barconi tutti dicono danno sempre la lettura migliore e quella sempre non bisogna mai chiedersi perché le motivazioni di chi colpisce in cielo ma in terra cioè sono tutti frutto di di devianze sociali di problemi sociali esattamente come accade con la comunità organizzata perché la comunità organizzata ha PIL perché dà opportunità a chi non le ha e nello stesso tempo la radicalizzazione avviene lo stesso il sistema di radicalizzazione è lo stesso allora vedremo come andrà a finire questa inchiesta siamo davvero alle battute iniziali che abbiamo decisamente argomento però parlavamo della campagna elettorale insomma ci sono ancora colpi di coda della campagna elettorale come quello che è accaduto oggi il consigliere Filippo Melchiorre era stato candidato con Fratelli d'Italia con le giorni nominale al Senato avrebbe voluto proporre ricorso questa opzione però probabilmente li verrà negata anche perché le schede elettorali delle votazioni del 4 marzo sono andate distrutte come sapete nell'incendio negli archivi del giudice di pace tra il 23 e il 24 marzo sebbene forse non sia possibile più proporre ricorso ma quantomeno un ricorso alla giunta per le elezioni perché qui si parla di un'interpretazione della norma da parte del distretto barese insomma allora due cose voglio dire la prima è che io trovo molto grave quello che è accaduto un incendio di questo tipo è davvero una vicenda molto grave che attiene ai principi democratici ma io penso sono sicuro che lo faranno bene ma il nostro compito è vigilare molto su un'operazione di questo tipo perché è strana poi sul riconteggio le elezioni hanno avuto dati così evidenti che non penso ci sia il caso di un tema di riconteggiare più serio invece il tema dell'applicazione della legge cioè il ricorso fondato da Michele Laforgia nell'esempio cioè in questa circoscrizione della Camera dovevano essere eletti cinque deputati e sono stati eletti quattro e quindi è stato tradito il principio di rappresentanza del territorio stesso discorso credo che faccia anche Boccardi no? no in realtà al Senato è stato applicato questo principio e alla Camera no quindi i due dicono o è vera una o è vera l'altra come è possibile che alla Camera e al Senato siano stati applicati due principi diversi Boccardi al Senato ha perso il seggio perché è stato applicato il principio della rappresentanza territoriale quindi se non sbaglio a Lecce l'altro collegio di Lecce e sono andato il numero di senatori che sarebbe dovuto andare alla Camera questo non è successo quindi in realtà questo è il vero punto che ruota attorno alla sulle schede sai riconteggio le distanze sono state così abbissarie che no però penso che sia una cosa gravissima della democrazia che sono state bruciate le schede elettorali sì non c'è dubbio anche se possiamo parlare di distanza anche rispetto a quello che sta accadendo a livello nazionale perché insomma il grosso nodo di questa consultazione elettorale sarà proprio la formazione del governo come la vedi Giuliano? boh infatti bella domanda da milioni di dollari penso che ormai ci stia andando verso un'alleanza 5 stelle lega sì l'alleanza 5 stelle lega con tutto quello che si porta dietro penso che i due corpi elettorali siano abbastanza vicini tra di loro sono molto diversi secondo me i corpi parlamentari nel senso che io conosco molti parlamentari 5 stelle eletti qui io li voglio vedere votare un governo con Salvini messo all'interno cioè Paolo Attanza che vota un governo con Salvini messo all'interno faccio proprio tanta fatica quindi penso che poi si dovrà fare il conto alcuni parlamentari dovranno fare il conto con questi tipo di argomenti beh se la sintesi però si trova sui programmi che è un po' quello che ha sempre detto Movimento 5 stelle ma che fare con il programma con Salvini al messo all'interno e poi insomma i programmi politici di immigrazione come fai a trovare una quadra per chi ha storie non voglio di sinistra però facevo l'esempio di Paolo perché Paolo funziona di un'NG che fa ha una storia politica molto chiara molto trasparente ma come lui tanti altri penso a Brescia penso a Quarto tutta gente che ha storie particolari molto chiare che fanno quindi questo è un po' il dubbimento penso che i corpi elettorali siano abbastanza vicini quindi non so sono molto curioso staremo a vedere tanto voglio dire manca poco per questa decisione restiamo invece nella politica regionale perché l'aggiunta emiliano in questo momento è un po' ammaccata visto che si è dimesso il quinto assessore dell'aggiunta emiliano se mantengo il conteggio esatto dovrebbero essere cinque ed è Michele Mazzola non lo sapete dopo che un servizio di striscia ha portato alla luce una presunta compravendita di voti su questo chiaramente c'è anche un'indagine della procura di Taranto che chiarirà le dinamiche di questa denuncia portata avanti da striscia che tra l'altro continua e emiliano ha ringraziato striscia la notizia insomma un servizio come questo che in qualche modo vigila sulla legalità e sulla legittimità dell'operato di un governo che è quindi del governo regionale possiamo dire che emiliano è un folbacchione è un folbacchione perché nessuno ha dubita sull'onestà del presidente della regione però le scelte per chi ha fatto in questi mesi questo che sta accadendo ora non sono fulmini e c'è il sereno sono risultati di scelte delle scelte fatte quando ha nominato Michele Mazzola non sapeva perfettamente chi era non c'era bisogno che striscia la notizia e glielo spiegasse e ci sono altre scelte che emiliano ha fatto delle quali ora in qualche maniera sta pagando le conseguenze e quindi come un folbacchione quando dice quello a striscia in realtà emiliano ha un problema enorme in questo momento che non è un problema di legalità è un problema e lui è evidente che non la classe non ha formato classe dirigente la classe dirigente poi gran parte della classe dirigente che ha formato non è adeguata e quindi ha problemi non è il comune in cui lui riusciva a gestire tutto questo è il vero problema e quindi emiliano ha dei problemi enormi in questo momento nella gestione delle cose e purtroppo secondo me sta pagando delle scelte di cui abbiamo parlato più volte sta pagando delle scelte quindi puoi dire ora fate bene a denunciare io appena ribecco ricaccio secondo me una volta può andare bene due volte può andare bene ma cinque volte diventa un po' troppo sta pagando il prezzo anche emiliano di un'eccessiva personalizzazione della politica regionale sì emiliano è così io 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 scontri continui emiliano è quello che trova il consenso nello scontro anche quando non ci crede a molte cose quindi questo lo sappiamo lo sapevamo il problema è che però la macchina burocratica della regione è una macchina complessissima e quindi è evidente che lui non può accentrare tutto cosa che anche perché altrimenti gli sfuggono le situazioni dalle mani cioè emiliano è che ripeto nessuno può dubitare sulla sua onestà è un straordinario collezionista di incarichi sbagliati da quando nei dieci anni al comune cioè ne ha sbagliate più lui che chissà chi nessuno dubita sulla sua buona fede però questo è un dato politico che ora evidentemente comincerà a pagare pagherà anche la decisione che è poteva apparire anche una decisione molto coraggiosa quella di mantenere a sé la delega della sanità i risultati però insomma stentano ad arrivare dopo tre anni di governo ma io penso che qualsiasi la sanità è un argomento così complesso che qualsiasi assessore in tre anni ma probabilmente non avrebbe rivoltato la sanità certo dopodiché la confusione di Emiliano la confusione è anche divertente applicata a un mondo per quello della sanità sta creando evidentemente dei problemi tutti abbastanza spaisati ma anche su temi fondamentali come io penso alla Xilella che è un tema secondo me centrale in cui Emiliano ha avuto questo approccio zapatista che però poi del quale noi pagheremo le conseguenze penso la Xilella su tutto ma pensa a quello che sta accadendo sul Giovanni XXIII il policlinico sono continui input che poi però non hanno seguito non si sa che succede lui da solo non riesce a seguire tutto e quindi di fatto la macchina burocratica è ingolfata cosa che invece il governo Vendola che aveva tutti gli altri difetti da questo punto di vista non ce l'aveva il governo Vendola aveva una straordinaria macchina burocratica certe volte la macchina burocrazia la macchina andava in parti sbagliate però la macchina burocratica funzionava funzionava in maniera molto intensa in questo Emiliano paga il personalismo mi dici tu allora torniamo nella chiesa di San Gaetano per andare a scoprire le altre statue che saranno portate dalla confraternita della Valisa in processione venerdì Barbara tornate allora Alessandra le vedete qui ben posizionate in realtà stanno anche facendo delle prove su come su come portarle le stanno le stanno portando giù dai dalle strutture insomma che le tengono sospese per essere per essere conservate conservate originariamente per questo il nome della della Valisa proprio nella nella Valisa oggi nella chiesa di San Gaetano ma andiamo per curiosità ad ascoltare altri altri portatori buonasera portatori della statua Gesù che porta la croce Gesù che porta la croce allora prima ne parlavamo con il segretario diceva è una una passione un mestiere che si tramanda di generazione in generazione però è bene parlare di passione di passione sì questa è la base principale perché se uno fa un portatore vuol dire che c'è molta passione del Signore ogni statua ha la sua storia ogni raffigurazione del momento della passione ha la sua storia voi conoscete bene prima mi dicevate anche un po' scherzando questo è il Gesù più bello perché? perché lui porta la croce e dà il significato che vuole salvare tutti e lui la porta ad oltre per dare la sua personalità di fronte a tutti e soffre per tutti quanti noi quando portate le statue non passeggiate ma fate una vera e propria danza anche se a voi non piace definirla così no non è assolutamente una danza è un passo proprio della passione quando Gesù ad esempio cade per tre volte non è che noi ci mettiamo a condizione di far cadere Gesù però abbiamo un passo in modo da far capire un significato di quell'atto di quel momento della caduta di Gesù ad esempio ci faccio vedere un po' facciamo dei passi ondulando poi passiamo tre volte avanti e poi riusciamo a tornare indietro per altri tre passi e poi quello è il passo che poi si ritorna ad andare avanti quello è quello che ci porta e ci condiziona in un modo particolare ecco a sentire la vera la vera passione la musica un po' vi aiuta no? sì sì certo tutto quello ci alleggerisce anche il peso sinceramente quando noi marciamo diciamo marciamo camminiamo e quel tratto di fermo della musica lì si sente veramente il peso che sopportiamo il peso non si sente quando uno la porta con passione con effetti il peso non si sente tutto viene svolto in religioso silenzio pregate durante la processione noi preghiamo durante la processione quando stiamo sotto perché bisogna pregare perché se non preghiamo non serve a niente e allora io vi lascio insomma qui che vuole aggiungere mi dica voglio dire tenga presente che noi non è solo il giorno del venerdistando che partecipiamo iniziamo molto tempo prima con la via crucis ogni venerdì la messa di precetto non è che all'improvviso ci troviamo magari il giorno prima aggiustiamo allestiamo e poi no 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 c'è tutto c'è una preparazione spirituale soprattutto allora noi vi ritroviamo intanto venerdì per le strade della città ora rispolveriamo che il signore vuole beh lo speriamo insomma ce lo auguriamo intanto vi restituiamo la linea tra pochissimo vi rispolveriamo un attimo le idee sul percorso della processione grazie Barbara che ritroveremo tra poco noi siamo in chiusura di questo spazio tu a Barletta la segui la processione no Barletta lo doc io c'ho chiedi sempre a precisarlo io c'ho Barletta però ho qualche problema in generale ah ok va bene allora non mi è stacca ringraziare Giuliano Boschini amico e collega di Repubblica grazie per essere stato con noi Giuliano grazie a voi grazie noi ci fermiamo a posta pubblicitaria troviamo tra poco con altre notizie restate con noi grazie a tutti grazie a tutti indottrinava i bambini al martirio arrestato per terrorismo internazionale un 58enne cittadino italiano di origine egiziana e ritenuto affiliato all'ISIS Tari la stangata c'è ma non si vede opposizione all'attacco anche se la tariffa resta invariata i fondi utilizzati per coprire l'aumento dei costi della raccolta vengono sottratti ad altri servizi Misteri l'anno della Vallisa sarà la confraternita che uscirà in processione venerdì nel nostro live le prove generali Bari piace agli stranieri tra le mete più cliccate per le vacanze pasquali secondo il motore di ricerca Trivago ne parliamo nel nostro focus con gli albergatori Eccoci ancora qui in diretta per la terza parte del nostro telegiornale un egiziano di 58 anni è stato arrestato a Foggia perché ritenuto affiliato all'ISIS indottrinava i bambini a combattere i miscredenti l'operazione è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari sentiamo Vi invito al Jihad a combattere i miscredenti i crociati gli ebrei gli atei i tiranni arabi e i loro eserciti con le vostre spade tagliate le loro teste oppure sparate con i vostri proiettili con le vostre cinture esplosive fate saltare in aria i loro corpi e non dimenticate le bombe esplosive che provocano maggiori disastri e atrocità la miglior maniera per ricevere la benevolenza divina e sappiate che Dio vi rende vittoriosi ogni qual volta si faccia trionfare la sua religione e il capestato onore dei deboli inneggiava alla violenza esaltando il concetto di guerra santa fino al convincimento di ottenere la purificazione dei peccati e il paradiso questa è la matrice dei messaggi che Moabdel Rahman il 58enne egiziano arrestato a Foggia nell'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari diffondeva attraverso l'uso di mezzi informatici l'uomo che da tempo aveva ottenuto la cittadinanza italiana dava anche lezioni di religione ai bambini dai 4 ai 10 anni nel centro culturale islamico del capoluogo Dauno utilizzandolo come base per la propaganda jihadista ad incastrare l'egiziano alcune pubblicazioni su internet di chiaro stampo terroristico video di appelli di al-Baghdadi e filmati di bambini arruolati nell'ISIS partecipazione all'ISIS apologia del terrorismo le accuse a carico di Moabdel Rahman al quale la guardia di finanza ha sequestrato numerosi conti correnti e beni finanziari per un valore di 370 mila euro sigilli anche al centro culturale islamico di Foggia che in passato aveva dato ospitalità al foreign fighter ceceno Elibon Bataliev arrestato da Radigos il 5 luglio scorso nell'ambito dell'operazione Caucaso Connection La politica regionale e la gestione dell'acquedotto pugliese è trasparente come quest'acqua sporca e la provocazione che arriva dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che questa mattina hanno manifestato all'ingresso della sede di via Capruzzi Roberto Maggi ha intervistato Antonella Laricchia I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle manifestano per l'acqua perché? Che cosa chiedete a Presidente Emiliano? La gestione di acquedotto pugliese di Michele Emiliano è trasparente come l'acqua che era contenuta nella brocca nelle nostre mani abbiamo da sempre denunciato sia le assunzioni legittime le consulenze anomale i nostri rilievi sono stati ripressi anche dal collegio dei sindaci siamo stati in procura e adesso la goccia che ha fatto letteralmente traboccare il vaso è stata la nomina di Simeone di Cania Brescia l'ex acerrimo nemico di Michele Emiliano a Presidente di acquedotto pugliese dopo che un consiglio di amministrazione è cambiato innumerevoli volte in questo anno l'acqua dotto pugliese deve essere soltanto ripubblicizzato dopodiché bisogna lavorare sulle dispersioni e quindi garantire un servizio idrico integrato all'altezza delle aspettative dei pugliesi non può essere invece terreno dei giochi politici di Michele Emiliano come l'ha utilizzato finora dopo avervi proposto una sorta di alleanza un accordo Emiliano di fatto poi sta dando delle cariche a persone provenienti dal centro-destra come commentate questo tipo di scelte? Beh Michele Emiliano quando ci avrebbe proposto quelle cariche in realtà disse chiaramente che in cambio avrebbe voluto l'astensione su tutti gli altri temi quindi evidentemente stava cercando di comprare il silenzio della prima e unica forza di opposizione invece questo tentativo che con noi non è assolutamente funzionato sta funzionando con tutte le altre forze politiche è bene che i pugliesi sappiano che evidentemente votare destra e sinistra significa votare la stessa cosa Siamo alla politica cittadina e alla Tari in realtà è aumentata parola delle opposizioni a Palazzo di Città che questa mattina hanno parlato in conferenza stampa sentiamo La Tari in realtà è aumentata che l'incremento non ricada direttamente sulle tasche dei cittadini non vuol dire che non saranno comunque loro a pagarne le conseguenze visto che l'aumento del servizio pari a 4 milioni di euro dal 2016 ad oggi sarà coperto con fondi che potevano essere utilizzati per ulteriori servizi a loro dedicati parola di Michele Piccaro che con altri componenti delle opposizioni Giuseppe Carrieri Filippo Melchiorre Fabio Romito e Michele Caradonna ha illustrato questa mattina l'artificio contabile votato ieri in aula d'Alfino un artificio che adopera come facciata per lenire le tensioni dei cittadini il mancato incremento delle tariffe sulla tassa dei rifiuti che per vie traverse rappresenta comunque una stangata per i baresi l'incremento così come documentato dal piano economico e finanziario sarebbe adebitabile all'estensione del servizio di raccolta porta a porta nei vari quartieri della città un servizio che invece di far diminuire i costi li sta al contrario facendogli evitare ed è questa la ragione per cui il capogruppo di impegno civile Giuseppe Carrieri ha illustrato ancora una volta gli emendamenti presentati in aula bocciati ma con l'obiettivo ha precisato di rendere la manovra fiscale più equilibrata l'amministrazione si è arroccata né non voler ascoltare le istanze che provengono dal territorio continua Filippo Melchiorre Fratelli d'Italia che annuncia nei prossimi giorni un nuovo sopralluogo torna sui 7 milioni di tributi non riscossi invece Michele Caradonna che si dichiara deluso da questa amministrazione mi sarei aspettato una vera e propria rivoluzione sui temi ambientali conclude visto che ne hanno fatto il vessillo della campagna elettorale consigliera qual era la sua proposta ieri in consiglio comunale la mia proposta è un sistema di raccolta che permette ai baresi di conferire H24 il rifiuto differenziato quindi di non avere i cassonetti per strada di non gravare si chiama trasporto pneumatico esiste in tantissime parti del mondo non solo di Europa ed esiste anche esisterà Taranto e Polignano grazie a una delibera di giunta Emiliano peraltro che per 20 milioni di euro finanzia in via sperimentale questa nuova tecnologia che poi è una nuova vecchia tecnologia bene ultimo collegamento del nostro lave in diretta dalla chiesa di San Gaetano con la confraternita della Vallisa Barbara torno a te sicuramente Alessandra la domanda che tutti si stanno facendo ma visto che quelli della Vallisa sono quelli legati ora non lo so dire bene in dialetto ma sono quelli legati alla pioggia pioverà venerdì venerdì porta bel tempo e forse farà anche molto caldo e questa è una leggenda che ci si trascina da tanti anni però abbiamo preso pioggia ma hanno preso pioggia anche quelle di San Gregorio abbiamo preso vento come hanno preso vento quelle di San Gregorio e il tempo tra marzo e aprile è pazzerello quindi abbiamo avuto tante belle giornate ma qualche quattro anni fa nel 2014 per esempio c'è stata pioggia noi da mattina abbiamo saltato il percorso di Bari Vecchia però poi il pomeriggio alle tre e mezza abbiamo fatto tutta la processione tranquillamente processione che vede protagonisti soprattutto i cittadini Bari risponde risponde anche calorosamente risponde anche in una maniera spirituale perché poi c'è un'altra tradizione legata anche alle statue antica tradizione quella dell'ex voto perché spesso noi la maggior parte insomma si concentra in corso Vittorio Emanuele che poi rappresenta il percorso conclusivo la fase conclusiva della processione e lì vediamo le statue comunque piene di quelli che vengono chiamati ex voto dicendo di oggetti che la gente offre per ringraziare il santo a cui è legato certo in effetti hai detto bene ancora oggi continua questa tradizione di alcune famiglie alcune persone che donano un oggetto o qualcosa anche in denaro così nelle cassette diciamo che la partecipazione dei cittadini è calorosa dicevamo prima che comunque la maggior concentrazione c'è in corso Vittorio Emanuele ecco perché quest'anno avete deciso di fermare di regalare un momento particolare a Bari sì è un momento di preghiera di meditazione diciamo a livello cittadino la processione si fermerà dove? in corso Vittorio Emanuele davanti a Teatro Piccini però la processione diciamo che inizia molto prima tra l'altro io parlando con alcuni portatori poco fa mi dicevano che insomma la parte più bella forse per le strade della città vecchia molto significativa la città vecchia e aggiungendo ci sono anche parecchi turisti che vediamo gironzolare per le strade di Bari Vecchia che guardano incantati a questa nostra tradizione allora Michele questo negli ultimi anni facciamo una cosa brevemente ricordiamo il percorso e gli orari della processione allora la processione partirà dalla chiesa di San Gaetano alle 9 del mattino e quindi farà tutte le strade di Bari Vecchia fino intorno alle 13 che si fermerà in cattedrale in cattedrale alle 3 c'è un momento di preghiera c'è l'alexio della passione di Cristo e dopo si riparte per le vie del quartiere Murattiano e allora noi ovviamente seguiremo insieme a voi venerdì la processione dei Sacri Misteri intanto grazie per aver affrontato insieme a noi questa diretta grazie a voi grazie a voi buonasera Alessandra da qui è davvero tutto io ti restituisco la linea augurando a te e a tutti i nostri telespettatori buona serata grazie Barbara grazie ai tuoi ospiti noi ci fermiamo breve posa pubblicitaria tra poco parliamo di turismo a Bari con il presidente dei giovani albergatori Bari e Vatte Marcello De Risi un ben trovati un aggiornamento meteo scopriamo insieme la tendenza per la giornata di mercoledì che vedrà ancora un debole anticiclone assicurare stabilità sull'Italia clima quindi asciutto anche se le perturbazioni premono da ovest e già interesseranno l'arco alpino e l'alto tirreno con qualche goccia di pioggia qualche precipitazione di fatti poi da giovedì ma soprattutto venerdì e sabato una perturbazione transiterà sulle regioni centrosettentrionali con piogge temporali ma andiamo a vedere la nuvolosità nel corso di mercoledì ci può vedere delle schiarite anche ampie un po' di variabilità invece in arrivo sull'alto tirreno ed il nord però appunto il sole andiamo a vederlo con la prossima grafica al sud Italia favorirà comunque una giornata primaverile quasi ovunque guardate le temperature sullo stivale tra 13 e 17 gradi un po' di più nuvolosità come detto al settentrione con qualche goccia di pioggia alto tirreno e poi in giornata qualche fenomeno sull'arco alpino dettagli più precisi come sempre sull'app di Trebi Meteo eccoci ancora qui in diretta il nostro focus è dedicato al turismo lo scopriamo insieme a Marcello Delisi presidente dei giovani albergatori Bari e Bat buonasera e benvenuto grazie il tema di partenza qual è? che secondo il motore di ricerca Trivago Bari insieme ad Alberobello e Lecce sono tra le mete più cliccate dai turisti nazionali e internazionali per le vacanze pasquali le chiedo subito è tutto oro qualche luccica? sicuramente sono dei dati ottimi ormai sono un paio d'anni che la Puglia vive un momento magico Bari di rimbalzo sicuramente sta vivendo altresì un momento sicuramente positivo dal punto di vista numerico di arrivi di permanenze di soggiorni certo non è tutto oro quello che luccica perché i dati sono positivi ma vanno analizzati nel dettaglio suddividendoli per province suddividendoli per tipologie di turisti che approdano la nostra regione però sicuramente non possiamo dire che sono periodi negativi sono periodi in cui la Puglia a livello nazionale e internazionale sta acquisendo un sacco di consensi positivi allora veniamo proprio ai dati intanto secondo questa ricerca sembra che si stia giocando d'anticipo per quel che riguarda il turismo rispetto al 2017 perché mentre nel 2018 i turisti hanno iniziato 52 giorni prima ad organizzare le vacanze pasquali rispetto al dato dello scorso anno ora si allungano anche si allungano anche i giorni dedicati al soggiorno per quel che riguarda Bari che però non superano le due notti a Bari quindi si conferma ancora una meta di passaggio rispetto ad altre destinazioni ma non riesce ad accogliere quel turismo stanziale hai dato un sacco di informazioni proverò a rispondere a tutto perché sono tutti dati molto molto importanti per noi albergatori partiamo dalla booking window che quindi è quanto tempo un turista pronota prima di effettuare il soggiorno sicuramente è un dato fondamentale per una destinazione turistica quindi la destinazione turistica quanto prima riesce a cogliere le pronotazioni tanto più riesce a strutturare dei pacchetti di servizi coordinati e tarati sulla reale occupazione in città di turisti presenza di turisti in città per quanto riguarda la permanenza media purtroppo noi come città manteniamo dei dati abbastanza bassi di permanenza di clientela in città leggevo che Trivago parlava di due giorni virgola sei ma secondo me per la città di Bari siamo anche sovrastimati decisamente sovrastimati come altro dato rilevante era anche la possibilità di coordinare con largo anticipo come impattare sulla booking window quindi come permettere a un cliente di prenotare prima sicuramente fornendo con largo anticipo quelle che sono le programmazioni turistiche della destinazione quindi non il singolo evento non la singola manifestazione bensì avere una pianificazione per poter strutturare la vacanza e il viaggio con maggiore anticipo e maggiore precisione una pianificazione degli eventi che indubbiamente aumenta l'appeal di una città e questo si riversa in prenotazioni si trasforma in prenotazioni e quindi anche nella durata media del soggiorno in una città una programmazione che però Bari sente a decollare anzi possiamo dire completamente assente sicuramente è uno dei punti dolenti della situazione turistica del territorio di Bari noi avremmo tantissimo bisogno di una programmazione con largo anticipo quantomeno senza esagerare con un anno di anticipo sapere esattamente qual è il programma di eventi per l'anno successivo per poter strutturare offerte turistiche per poter prendere accordi con tour operator anche a livello nazionale e internazionale è fondamentale per le strutture per tutto il sistema potersi organizzare con largo anticipo quindi assolutamente sì questo per noi è determinante tra l'altro il Presidente diceva una cosa interessante nel fuori onda che molto spesso Bari le iniziative ci sono ma bisogna andarsene a cercare il turista invece chiede altro chiede di essere subissato di iniziative per poter appunto avere una ragione stabile per poter continuare a stare in una città in tema informatico facendo una metafora il cliente desidera delle notifiche push quindi non desidera tanto ricercarle ora siamo nell'era del 2.0 3.0 e le notizie ti devono arrivare prima ancora che tu le vada a ricercare pertanto avere questa possibilità di ricevere o di poter ottenere su una destinazione ho letto che Trivago diceva la destinazione è più cliccata quindi nel momento in cui uno fa il clic sarebbe bello poter avere tutti quanti gli eventi correlati a quella data molto spesso noi per i primi albergatori ci troviamo un po' sprovvisti a rispondere a delle domande di alcuni clienti che in struttura ci dicono ok quali sono i programmi di questo weekend anche a noi molto spesso sono sconosciuti perché non ci vengono comunicati o perché non vengono strutturati o perché non vengono coordinati in maniera adeguata quindi prima di tutto organizzarli ma soprattutto comunicarli e coinvolgere gli operatori del settore che siano alberghieri o comunque del settore turismo sulla base delle esperienze degli anni passati le vacanze pasquali possono essere considerate un banco di prova in vista della stagione estiva beh solitamente sì è l'inizio di tutte quante le stagioni Bari vive un po' meno di stagionalità diretta per quanto riguarda la stagione estiva come destinazione cittadina perché storicamente siamo sempre un po' più leisure quindi più improntati sul business sul turismo di lavoro anche se negli ultimi anni si è risvegliata questa nuova tendenza leisure del territorio pertanto sicuramente sì può essere un banco di prova e da questi dati positivi a livello Puglia dal punto di vista sentivo che comunque è stato un campione abbastanza ampio quello dichiarato dall'assessore circa il 70% delle disponibilità turistiche non solo alberghieri quindi turistiche della regione pertanto un campione abbastanza rilevante e questo trend di crescita è assolutamente positivo si spera in un'ulteriore estate stagione a Florida si spera anche con un segno più possibilmente anche a doppia cifra allora parlavamo di Bari più cliccata ecco proviamo a dare una lettura di questo appeal che ha registrato Bari almeno attraverso i motori di ricerca a Trivago quanto incide il fatto di avere un aeroporto uno scalo importante quindi quanto può essere connesso il clic sulla città in relazione all'aeroporto io credo che l'aeroporto sia il nostro asset principale ce ne siamo resi conto quando per motivi di manutenzione abbiamo avuto l'aeroporto chiuso per circa otto giorni se non ricordo male e l'occupazione negli alberghi è crollata pertanto l'asset principale del nostro territorio è proprio l'aeroporto quindi una gestione strategica e con una visione improntata alla destinazione indispensabile gli altri asset determinanti secondo me che hanno inciso su questa possibilità di maggiori clic da parte del cliente sono la basilica di San Nicola e tutto il mondo ortodosso e anche mi sfugge adesso il il turismo religioso no va bene ora mi sfugge e verrà allora visto che siamo in chiusura davvero pochi secondi nuovi voli da Bari sono stati annunciati sia da parte di Ryanair ma anche da parte di Whitsair quanto incidono sull'outgoing ma soprattutto sull'incoming a questo punto sicuramente sull'incoming incidono parecchio sono dei voli che hanno possibilità di essere riproposti quindi di sopravvivere se funziona in maniera bidirezionale quindi sia l'incoming che l'outgoing gli ultimi ho sentito anche Tarkish ha aperto delle nuove linee direttamente su Bari quindi per noi questo incoming sia come destinazione ma come hub dobbiamo essere in grado di intercettarlo e farlo rimanere qui in città sicuramente Bari sta funzionando benissimo come hub di arrivo per la regione per Alberobello per la zona dei Trulli ma anche per Matera soprattutto con Matera 2019 Matera 2019 pertanto dobbiamo essere in grado di catalizzare questa e bloccare questa clientela che è di passaggio per Bari fornendo un pacchetto di servizi integrati e interessanti e che possa un cliente pertanto fermarsi una volta ma avere il desiderio di poterci tornare e avere sempre nuovi spunti e nuovi eventi da visitare e partecipare allora siamo in chiusura sperando che questi numerosi click si trasformino anche in numerose prenotazioni arrivando anche alla doppia cifra infatti grazie a Marcello Delisi Presidente dei Giovani Albergatori di Baribat grazie per essere stato con noi e grazie a voi per averci seguito l'appuntamento torna più tardi arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti